Destinata al suicidio energetico, Putin affonda l'Unione Europea degli Embarghi. Per oggi parliamo soltanto di un embargo europeo a livello petrolifero del petrolio russo uralico, ma, come anticipato da Orban, primo ministro inglese alla radio pubblica, e confermato sicuramente nei prossimi giorni dalla Commissione Europea, attraverso una proposta da mettere sul tavolo delle trattative europee di Bruxelles, anche per quanto riguarda il gas naturale in vista del prossimo autunno-inverno. E lì saranno problemi per tutti noi, come dicono non solo dei pericolosi orbaniani della destra ungherese nazionalista, ma anche giornali europeisti italiani, come vedremo proprio in questo segmento più avanti. Cosa ha detto il Presidente della Federazione Russa, lo Tsar? Leggiamo il tempo. Ebbè, le sanzioni occidentali contro la Russia si rivolteranno contro chi le ha poste, cioè l'Unione Europea, per esempio il Nord America, e l'Europa dovrà fronteggiare un suicidio energetico. L'aumento dei prezzi dell'energia potrebbe minare in modo irreversibile la competitività di gran parte dell'industria europea. L'Europa cerca di scaricare la colpa su di noi, cercando di nascondere i propri errori sistemici, che non sono in realtà errori, ma volontà che vanno proprio nella direzione del cosiddetto Grande R, che non posso nominare qui. I piani della cosiddetta elite finanziaria, se volete, oppure tecnocratica, alla Klaus Schwab. Se ci sarà l'embargo al petrolio russo, l'Europa sarà la regione con il più alto costo dei prezzi dell'energia al mondo, evidentemente. Oggi vediamo che per ragioni assolutamente politiche, a causa delle proprie ambizioni e sotto la pressione del padrone statunitense, chiaro richiamo a Draghi che è andato recentemente, anche a Draghi che è andato recentemente a Washington da Joe Biden, i paesi europei stanno imponendo ulteriori nuove sanzioni, si pensa soprattutto a quelle sul petrolio. Questo porta danni alle loro stesse economie, come già si vede come vedremo in questo segmento. Se volete sostenere l'informazione indipendente, potete farlo tramite link in descrizione, PayPal e Bonifico Bancario. Come sempre lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivando le notifiche e condividete il video. Il giornale Dicta dell'UE che cosa pensa intanto la Commissione Europea di Ursula von der Leyen? Pannelli solari obbligatori per tutti gli edifici. Si studia un obbligo giuridicamente vincolante sia per gli edifici pubblici che per quelli privati entro il 2025 e per i nuovi edifici residenziali entro il 2029. L'obiettivo sarebbe ovviamente staccarsi dall'energia russa. Sarebbe quello di abolire, si legge gradualmente, le importazioni di petroli e prodotti petroliferi entro fine anno. Ovviamente una guerra a Putin che sarà fallimentare soprattutto per le nostre economie, e per le nostre società, la tenuta delle nostre società. Ci saranno delle ribellioni che abbiamo visto già in paesi come lo Sri Lanka, ben più poveri, che però anticipano quello che potrebbe quasi sicuramente succedere nel prossimo autunno-inverno, proprio qui nel nostro vecchio continente. A Finton Post intanto la solita Angela Mauro, l'UE usa gli avanzi dei recovery per il piano energetico, ma il prossimo inverno resta un problema. Cioè la critica arriva addirittura da un giornale europeista, dalla Angela Mauro, che bisogna per una volta dire che azzecca una lettura, secondo me, poi magari mi sbaglio io. Presentato Repower EU, questi nomi inglesi mi fanno impazzire per questi piani che vanno, che mirano tutti ad aumentare il debito pubblico e togliere sovranità nazionale. Piano per l'indipendenza da Mosca entro il 27, fondi 300 miliardi di euro, ma non sono nuovi, nessuno prestiti, niente tetto comune al prezzo del gas, e ci mancherebbe, dico io, perché i paesi che hanno stretto accordi, per esempio, con la Zerbaijan, con la Russia di Putin, devono pagare per quelli che hanno fatto i, tra virgolette, verdi europeisti e non hanno fatto accordi lungo termine a prezzi vantaggiosi. Ditemelo voi. Timmermans, meno condizionatori, ma parla in una sala gelida di aria condizionata. Lasciamo perdere. La solita ipocrisia europeista di Bruxelles, Strasburgo, e Timmermans, lo conosciamo, chi è? 297 miliardi, dice l'esperto Ortoi Oliver, AM1, televisione pubblica ungherese, esperto ovviamente in ambito energetico. Sono nulla, nulla, sono quasi tutti i prestiti. Sono nulla questi fondi, perché per esempio per una nazione piccola, sì è vero, dipendente molto dalla Russia per l'energia, per il petrolio, servirebbero per riconvertire le proprie raffinerie 180 miliardi di euro solo per l'Ungheria, per Vecces, Sars, Alonbotto, cioè sono le due raffinerie ungheresi e servono 180 miliardi di euro solo per quelle, avete capito bene? Cosa ci facciamo con 300 scarsi quasi tutti a debito? Guardate caso il debito per togliere sovranità, lasciamo perdere, guarda. Portfolio. Portfolio ci dice che l'economia ungherese intanto, guardate caso, con l'energia a basso costo russa, vola, vola, sta recuperando il divario storico dopo il periodo comunista con l'Ovest dell'Unione Europea, anche con l'Italia, e il prodotto interno lordo quest'anno crescerà dell'8,2 l'anno scorso del 7,1. Non solo si è ripreso dal periodo della pandemia, ma sta cavalcando l'onda della crescita. E poi la Yellen studia una proposta all'America di Biden, tutto l'ambito finanziario, come far pagare l'Ungheria lo stop all'embargo petrolifero europeo contro la Russia, tra virgolette. Ebbè, che cosa studia? Studia una proposta per aumentare i dazi doganali dell'importazione del petrolio uralico russo, aumentare i dazi e dare quello scarto per la ricostruzione ucraina, dare i nostri soldi all'Ucraina automaticamente, perché la Yellen ha incontrato e ha proposto queste cose al G7, un obbligo da imporre all'Unione Europea, tramite l'Unione Europea anche all'Ungheria, per colmare quel divario di prezzo, per esempio, che c'è tra il Brent uralico russo e quello inglese WTI e gli altri tipi di petrolio che sono più cari di quello russo. Ebbè, come scrive questo giornale, come ha detto Reuters, l'idea è la proposta indovinata da chi è partita, da Mario Draghi, dopo la visita a Biden, a Washington, proposta al G7 dal primo ministro e dal presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. Non avevo dubbi. La CNN bisogna riscrivere le regole del gioco e togliere il diritto di veto all'Ungheria, perché Orban o Erdogan, con la questione Nato, sono i bastoni tra le ruote della perfetta Unione Europea di Bruxelles. Chi lo scrive, lo scrive Andelman, l'editorialista, che dice anche che bisogna istituire subito una commissione anticorruzione internazionale globale per andare a colpire i regimi come quello di Putin, Orban e Erdogan. Questo è il livello della stampa occidentale, se vogliamo, dell'anglosfera, dove rientra anche, possiamo dire, anche l'Italia. E comunque, come scrive Politico, è un giornale di Bruxelles europeista, quindi non lo scrivo io, l'ostruzione alla sanzioni petrolifere europee antirusse di Orban fa comodo, soprattutto ad altre nazioni dell'Unione Europea, che non vogliono dirlo, tutta ipocrisia. L'Ungheria è l'unica che dall'inizio, da fine febbraio, dice no a tutte le sanzioni, lo dice chiaramente no a tutte le sanzioni energetiche. Beh, Slovacchia, Repubblica Ceca, Spagna, Portogallo e Italia con la questione dell'ENI, ma stiamo zitti e andiamo avanti con l'ipocrisia. G7, a febbraio abbiamo pagato, lo dicono i paesi più grandi, i cosiddetti più grandi anche se non lo sono, l'Occidente, in sostanza le guide dell'Occidente, tra cui anche l'Italia come abbiamo visto. A febbraio abbiamo pagato il gas naturale tre volte di più della Romania e quattro volte di più rispetto alla media europea. Chi lo paga meno di tutti in Unione Europea è l'Ungheria di Orban. Ebbè, che cosa è successo? Che paesi che invece hanno preso scelte diverse come la Spagna socialista di Sanchez, europeista, sciorocista, filo, soros, se vogliamo, 40% in un anno l'aumento del gas butano in bombola in Spagna e a scriverlo è RTV, cioè radio e televisione spagnola, che seguo ogni tanto, quindi conosco, è di stampo europeista, progressista, cioè socialista. JP Morgan, banca americana se non sbaglio, la Russia, l'economia russa si sta comportando meglio, va meglio di quanto pensavamo. Le previsioni di JP Morgan la davano nel 2021, un crollo del 35%, ma questo non c'è stato. L'economia russa e il rublo ancora crolleranno domani e poi domani, sempre domani. E quindi altre previsioni che non hanno nulla di politico, vero, sono tutte basate su fatti solidissimi. Mondiner, il partito Huxit, quindi per l'uscita dell'Unione Europea dell'Ungheria, appena nato, di Volner Janos, intervistato a Mondiner. L'Unione Europea così si sta suicidando, le stesse parole di Orban e poi di Putin che abbiamo visto all'inizio, proprio con le sanzioni, gli embargo energetici. E beh, la Russia, come dice Volner, ha aumentato i propri profitti dalle esportazioni di petrolio del 50%, proprio grazie alle crisi energetiche scatenate anche dalle sanzioni occidentali. E beh, lo stesso Volner dice, scusate, lo stesso Volner dice, mi ricordo sempre la O con due punti, non è così. Dall'Unione Europea, l'uscita dall'Unione Europea è inevitabile, la nostra uscita dall'Unione Europea, l'uscita dell'Ungheria. Forse ha ragione lui, vediamo come va a finire la storia verso il 2030, questa data chiave per l'Ungheria e forse anche per tutta l'Unione Europea. Grazie per aver rivisto questo segmento al prossimo tra Italia e Moja Rorsal.